Sospesa nel nulla Con le mani giunte su quella liana, incatenata all'albero maestro, mi sono chiesta più volte cosa fare, se seguire quell'alito di vento che mi sfiorava il viso o rimanere lì adagiata nel mio fossetto familiare e indecisa mi aggrovigliavo senza sapere che quel giorno l'avrei seguito avrei lasciato quella terra sotto i miei piedi ritrovandomi sospesa nel nulla e spaventata mi sono arrampicata cercando una via di fuga senza capire che avrei solo dovuto lanciarmi perché altra uscita non c'era e mi sono buttata, protesa in avanti coinvolgendo tutte le mie forze ed ho trovato la sponda opposta, mi ci sono ritrovata catapultata come in un feroce frangente ma ora sono salva, integra e per quanto intimorita desiderosa di riprovare quell'ebbrezza e in un niente mi ritrovo ancora lì, sospesa nel nulla grazie 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 a tutti.